Ehi la a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova apertura di PokéShiny E oggi ci faranno compagnia Lei, mitica, bellissima, l'ho trovata in un'edicola E poi vi faccio vedere due carte della mia collezione che a me piacciono tantissimo E sono un O.O. del Pokémon Day Ovviamente sono Gemmined, anzi, condizioni PokéShiny Dovrebbero raggiungerlo ovviamente Ha le gradazioni di perfezione delle carte E un Pikachu promo del decimo anniversario Pokémon Ho scritto qui Che questa è stupenda Perfetto ragazzi, quest'oggi vi porto all'apertura di nove pacchetti di esplosione plasma Di cui otto sono in bustina, il nono no perché L'ho preso in quelle confezioni di plastica plastificate Non in queste di plastica morbida Ma in quella di plastica dura E ho già tolto la plastica Quindi vediamo Se portano fortuna Beccatevi il codice E abbiamo Invertitore Fossil Piuma Shellgon Fro Kangaskhan Solosis Remorade Larvesta Axi Reverse No vabbè ragazzi Girachi X Al primo pacchetto E sono Come vi dicevo Quelli lì nelle confezioni rigide di plastica Non in queste morbide Girachi X Che io ovviamente non avevo ragazzi Quindi non scambio Quindi per favore non chiedetemela perché Non è da scambio Cioè Bellissimo Fortunatamente ho comprato Altri pacchetti Nelle confezioni rigide Quindi speriamo che siano fortunati Come questo qui No Andiamo di qui Codice Allora Octillery Professoressa Lalia Acchiappa Pokemon Remorade Sock Saskit Aron Drifflum Questo maledetto Frozlass Reverse E un Porygon Z-Holo Proseguiamo E abbiamo Invertitore Arken Duosion Remorade Froh Saskit Carrablast Golet Daglet Reverse E sigili Follow Allora ragazzi Non mi ricordo Qual è l'utente Che mi aveva chiesto Tre sigili Follow Se sei ancora interessato Adesso li ho trovati Perché questo è il terzo Perché Le avevo detto a quest'utente Che se avessi trovato Tre sigili Le avrei messi da parte Quindi Io ce li ho I tre sigili Se sei ancora interessato Contattami Perché Sinceramente Non mi ricordo Come si chiama Chi Me l'aveva chiesti Codice Chiatot Lilip Abomasnau Teddiurza Solosis Ondur Lapras Tainamo Fossil Piuma Reverse E Credili Raro Allora Energia plasma Fraxur Tirtuga Solosis Driflum Ondur Daklet Snorant Maciam prevers E maschere in raro Codice Codice Relicant Macioc Fraxur Snuver Macioc Begon Larvesta Porigon Maschere in reverse E Driflum Raro E non trovo Ok Qui c'è il ciuffo flù Dell'amore mio Dell'amore mio Verro Ila Hai visto Ci abbiamo flù pure Il codice Invertitore Porigon 2 Fossil Piuma Lapras Aron Begon Squirtle Teddiurza Arken reverse E Mespriptolo Guardate questo pacchetto Che è messo Al contrario Che dite Sarà un pacchetto Fortunato Visto che è così Solitamente Quando io trovo Le cose al contrario Portano fortuna Vediamo Codice Invertitore Ultraball Arken Lapras Aron Begon Squirtle Teddiurza Asselgoraro reverse E Volcarona raro No Niente Non è stato fortunato Il pacchetto rovescio Ultimo pacchetto In questa apertura Codice Energia plasma Iris Specchia argento Dradigon Munna Axio Shelmet Kangaskhan Magio preverse E agro Honoraro Perfetto ragazzi Io con questo splendido Giracex Full Art Vi saluto E vi aspetto Per le prossime aperture Ciao ciao